Bentornati a tutti ragazzi, io sono Full73 e qui ci sono qui su Fullout4 Dunque, l'ultima volta avevamo... cioè, eravamo arrivati qui al villaggio e avevamo incontrato il nostro simpatico robottino di nome Cosworth Dunque, vi dico subito, mi sono perso un paio di ore di gioco solo per fare questa roba qui Ok, voi direte, tutto qui, tutto qui, ragazzi, c'è un'infinità di roba da poter fare Lì c'è anche il generatore, se io accendo il generatore, se io accendo le luci qui, ok Questo qua, ragazzi, qui non c'era niente prima, è tutto costruito da me Ci ho perso due ore per fare sta castroneria qua Il bello è che sono riuscito a fare anche il tavolo da biliardo Vabbè, quattro cose in croce, ragazzi, niente di così serio, niente di così complicato Vedete, io praticamente posso so dire qua sopra, vedete qua purtroppo ci sono... cioè, è fatta apposta per non stare troppo a sbattere sul problema, diciamo, del trapassare i muri, queste cose qua Però vabbè, se vedete, accendo il generatore, non credo che ci sia bisogno di benzina se accendo le lampadine qui E i due, diciamo, lambioncini qua Ok, vabbè, l'ho fatta così tanto per un pochettino fare qualcosa E ripeto, io ho già perso due... ho fatto più tempo per costruire queste cose qua che ore effettive di gameplay, per dirvi subito E... quindi niente male Poi, altra cosa Qui ci sono i vari banchi da lavoro Questo qui serve per costruire, questo qui serve per potenziare le varie armi Quello lì per le armature, qui ci sarà l'armatura nucleare Che ancora non... non abbiamo, naturalmente E niente ragazzi, il sistema di costruzione è abbastanza semplice, insomma Il problema è che c'è davvero tanta roba e tanti modi come metterla, come sfruttarla Ci sono tanti pezzi, comunque Per esempio, tanto per dirvi, solo di pezzi di muro in legno ce ne sono una decina, quindicina Poi ci sono i muri in acciaio, altri sempre dieci, quindicina Poi li puoi ruotare, poi... ragazzi, c'è tanta roba Decorazioni, luci, c'è tanta roba, tanta roba Allora, dunque, adesso, torniamo a noi Mi dice di andare... da lui Codsworth Il problema... è... io mi... ah, ok Due volte, bisogna cliccare Non sono qui No Eeeh Forza, Codsworth Mi serve il tuo aiuto Dove posso andare? E dovrebbe recarsi in città Concorde non è lontana Ma la gente lì non è... educata come me Grazie per l'aiuto, Codsworth Ok Adesso dovrebbe cambiarci l'obiettivo, vediamo un po' Io resterò via a difendere il fronte Ok Perfetto Dunque, mmm... Allora Vi volevo fare vedere La mappa Perché? Perché a quanto mi sembra di vedere Allora, è grossa Però mi sembra un po' più piccolina rispetto A quella di Full Out New Vegas Mi sembra molto simile Livello 2 T, ragazzi, fermi tutti Eeeh Fermi tutti Qua siamo saliti di livello senza neanche ricordarselo Perché, ragazzi, sì Man mano che costruite la casa Eh, beh, aggiungete pezzi E completate, per esempio, delle cose Per esempio, allacciare il generatore, eccetera, eccetera Potete guadagnare dei punti Eeeh E questa chi la sapeva? Allora Pistole dominano lo spino del vecchio Pistole non automatiche Infliggono 20% in più di danni Ebbè, ebbè, ebbè Questa qua Mi sa che ci vuole Eeeh Intanto facciamo Ok Scusa che ci vuole, ragazzi Il corso verso l'obiettivo è più vicino Ok Collezionista di tappi L'arte datativa I prezzi di acquisto Sono più favorevoli E io, ragazzi Se mi sarei che farei questo qui Guadagnare dei danni Borseggio Il borseggio più facile del 25% Ok, no Io direi Collezionista di tappi E intanto Ragazzi, comunque Cioè, allora Questi qui sono Aspetta Come si scendeva C'è il modo per scendere Ah, ok, così Allora, questi qui sono i talenti Ok Per ogni talento Per esempio, agilità Io sono 2 su Quante sono? 10 stelle Eeeh Vabbè, comunque Insomma Per dirvi Quanti ce ne sono Quanti livelli Cioè, non so Tipo, devi arrivare Tipo a livello 400 Per avere tutte cose piene Eeeh Sto dicendo Ho anche Diciamo Cambiato la pistola Ho messo la pistola Ho già cambiato Due pezzi di pistola Intanto iniziamo Ad andare Io devo andare Di qua Anche se mi chiede Ah, questo qua E quello lì Vedete? È quella specie di razzetto Lì davanti in rosso Merda 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 Fuori dall'acqua Fuori dall'acqua Che ne sapevo io Ma è vero che Vabbè Sì Merda Radioattivo Sì Sì Frutto mutato Sì No 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 Qui Uh C'è il nostro cagnolozzo Ragazzi Quello Eh, ora vado a ricordare Come si chiamava Non mi ricordo Come si chiamava Ehi, bello Che ci fai Qua fuori Tutto da solo Eeeh Eeeh Hai perso il tuo padrone È bello Eh Ok, allora Vieni con me Mi zi Negli ordini Commercia Come commercia Ragazzi In commerciante Ehi, bello Ti va di trovare qualcosa Per me Oggetti Ehi, se c'è qualcosa Di utile Nei paraggi Bello qui se non vado errato bello grande ho già trovato della roba importante tutto sommato allora questo come sai che ci serve veleno per topi lettine al minimo se ne parla carne boston beagle portachiavi no non ho idea di cosa si ah si è tipo una specie di ok qui c'è l'acqua non c'è ai 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 madonna come ci è morto male ma che figata escono anche oh c'è attenzione escono anche dalle 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 finestre che figata ma che figata finiscono per di c'è vivono sotto terra però hanno girato talpa denti vero maniciapo eh ragazzi qui cos'è qui cos'è radio ammatoriale sentiamoci un po' di musiche eh che bella ragazzi che musiche scatola di tappi uh 21 tappi ragazzi medics e buffo poi cosa c'è sta qua non c'è niente non c'è niente terminale vediamo un pochettino cosa ci dice qua no qua ci partiamo una settimana un deposito sicuro ah barili vabbè oh oh tutto un pezzo di merda allora fermi tutti dunque steampack subito uh logica tasca d'argento nastro americano fusibile chiave questi due mi diciamo perchè secondo me potrebbero tornare utili comunque ventilatore no officino no 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 fermi tutti perchè allora mi hanno detto dei barili da qualche parte ci dovrebbero essere dei barili c'è niente che non c'è niente no ah no forse c'è qualcosa nuca cola ragazzi la nostra prima nuca cola attenzione ah merda bottiglia di latte vuoto ho sbagliato comunque dei barili dei barili dove li trovo dei barili qui non c'è una mazza fermatore munizione dei barili dice che ci dovrebbero essere dei barili intanto ricarichiamo ragazzi oh my god well ragazzi aspetta un attimino perché vado a rileggere un attimino una cosa perché dovrebbero esseri dei barili e quanto mi sembra di capire ci potrebbe essere roba interessante E soprattutto Adesso è che ci può tornare utile Insomma che siamo Appena Diciamo Entrati in game Ok per il momento Se nascondono insieme agli altri Una soluzione Ehi se la natura ci ha regalato una caverna Sotto di noi Ok quindi In una caverna sotto di noi Perfetto Proprio sotto di noi Allora a questo punto bisogna andare di qua Penso Una caverna Proprio sotto di noi Facciamo un giro Facciamo in terza persona dai Oh salve Che cazzo c'è? Non ci vedo una sega L'ho preso stronzetto Oh si succhia sangue Porca miseria ragazzi Ancora io il nostro cane? Ehi Come ti va? Bello No vabbè Non importa Bello Vabbè Quindi forse il comando Per prendere la roba È Diciamo Non sempre disponibile Ecco Ora mi chiedo Dove è che ho ucciso l'altro? Vabbè ragazzi Chi se ne frega Andiamo a prendere sta cavolo di cose Sti barili qua Qua sotto Dunque Estintore No Effettivamente non mi interessa Oh 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 Fungo luminescenze Sei luminescenze Fungo mentale Fantastico Il fungo mentale Ah Così si entra Vediamo quanto ci vuole Diciamo il caricamento Tra una zona interna e un esterno Beh no no ragazzi Tutto sommato Si può fare Però Attenzione Perché io devo un pochettino Insomma Mettermi un attimino a posto A livello di Gomme da masticare Vabbè Anche se non fanno tanto Nuka cola Nuka cola Beh no Aspetta Nuka cola Però mi da No Zucca Ok Madonna quanto è Ragazzi Ma dove Maledetto Prezzo di merda Ragazzi qua fanno delle imboscazioni Già Questi Questi qua Che Fan paura eh Io ora Dove sono Dove sono Ecco Ecco Brutto Pezzo La carne Proprio Non mi interessa No queste cose Ma sono No no Sono Si possono usare Sto raccogliendo Sto raccogliendo questi Vari funghetti Per una ragione Molto semplice Perché se non vado errato Con cose del genere Possiamo fare Bella roba Scopano Un Cocomero Uno ciapo Ragazzi Uh munizioni Munizioni Bottiglia Molotolo Partigiano Pistola Sveglia Lasciamo Non mi interessa Martello Punta Tonda No Non mi interessa No 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 Ferma Tutto Ok Perfetto Così Ah era Merda ragazzi Si è messi un po' maluccio Ehm Orologio d'oro Non lo prendo L'accendino Non lo prendo Fungo E ti togli Cane Oh Ah bello Vi lascia passare Allora Nei cosi qua Non c'è niente Sicuramente C'è da prendere Qui Della roba 6 forcine Coraggio No Un po' pin qua Un po' pin qua Ancora E dai Cazzo Perfetto È andata ragazzi Bottiglia Molotolo Coltello d'argento Medix Mina Ragazzi Munizioni Ottimo Ne ho Detergente Non mi interessa Fungo Fettiera Tanto carichiamo Beh io direi Che tutto Sommato Però aspetta Perché lui parlava Di Vabbè però Parlava di barili Però In barili Sicuramente c'era Roba Roba Lì cosa c'è Oh io ragazzi C'è No aspetta Fermi tutti Sì Sì faccio Vabbè Aspetta lì No Forza Resta qui Resta lì bello Come ti fa Bello Ehm Trucchi Ehi bello Conosci qualche trucco Che trucchi ne conosci Ma non Trucchi Di quel genere Allora io sto Tanto visto che ce l'ho Non frega niente Non vedete tanto Comunque sono tre radiazioni Poca roba ragazzi Va bene Possiamo uscire Perché ora direte Ora vi faccio vedere subito Perché noi Dobbiamo Se non sbaglio Abbiamo uno di quelli Là praticamente Ti levi tutte le radiazioni Quindi Allora Intanto Mangerei Intanto ragazzi Cocomero Ehm Eh Fungo mentale Fungo l'unice Carne La totale Panno Questi cocomero Tirate via Uno e due Perfetto No Molto bene Ora mi chiedo Ehm Qual era quello Che tira via Tutta Radix Resistenza Redway Meno 300 Io Come sono messo A livello di No A livello di radiazioni No 10 Possibile No 10 sono La resistenza Non lo so ragazzi Redway Mostra effetti Cocomero No Vabbè Comunque per adesso Lasciamo stare Si può fare Tranquillamente Anche così Dunque Entriamo qua in città Vediamo un pochettino Come la situazione Passiamo di uno in prima Faccio vedere Ho anche questa Pistolina qua Che l'ho trovata In una delle casette Non ho idea di che pistola Si Cioè è una pistola Praticamente resistente Qualcosa Qualcosa Non so Merda ragazzi Non possiamo farlo Venta se buffo Possiamo dormire Cosa che non mi ricordavo E sia sincero Per dirvi da quanto tempo è che non gioco A un gioco del genere Cioè a un full out Fermata dell'autobus Che dire Passa Secondo voi No Direi di no Ok Tutte le case sono sbarrate C'era solo quella lì Che era visitabile Questa è una cosa Che non mi piace tantissimo Tutte sbarrate sono Qua ci sono dei sacchi Di sabbia Ragazzi Io quasi quasi Stacco qua il video Così Dividiamo il video Perché qua secondo me Succede qualche cosa Sicuramente Prima città Qualche cosa succede Stacco qui E ci becchiamo Alla prossima ragazzi